E' partito ufficialmente il Natale Terramano con l'inaugurazione della pista di ghiaccio e dei mercatini. Sì esatto, siamo partiti, era il primo appuntamento del Natale Terramano 2021, abbiamo 10 unità di casette in legno che ospiteranno i mercatini, quindi abbiamo soprattutto produttori del territorio e commercianti del territorio. Abbiamo una casetta dedicata alle informazioni turistiche con il progetto Scopri Termo e con il progetto del Natale Terramano, dove si possono prendere tutte le informazioni sugli orari dei siti museali, del trenino, della pista di ghiaccio, i relativi costi e dove appena presentati gli eventi natalizi presenteremo anche un po' tutti i calendari eventi del Natale Terramano. La pista di ghiaccio è chiaramente una delle attrazioni principali che abbiamo voluto quest'anno, credo che siano quasi più di 10 anni che mancava nella nostra città, quindi comunque c'era un desiderio forte di riportarla, abbiamo deciso di averla qui in Piazza Martini, ma che fosse anche una pista molto semplice, elegante, quindi giusto il ghiaccio, il legno della recinzione con il logo del Natale Terramano al centro. Quest'anno il Natale Terramano è partito in anticipo con l'inaugurazione della pista di ghiaccio e dei mercatini, poi l'8 dicembre, come da tradizione, l'accensione delle luminari. Sì, c'è tanta voglia di festeggiare, tanta voglia di stare insieme, ecco perché dobbiamo farlo assolutamente con massima cautela e prudenza, ma vivere questo Natale così, con le luci che rendono ancora più merito alla bellezza della nostra città, la novità della pista di ghiaccio e poi le casette. Vogliamo regalare alla città un Natale di speranza, di fiducia, che sia anche occasione di rilancio e partiamo prima, che sia un segno di ripartenza complessiva.